STANCO? Ma che stanco? Io prima delle quattro non carburo mai, Gioia! E' lombalgia acuta. E' che a una certa età, l'attività fisica, bisogna farla come una relazione. Pari o dispari? No, batto io perché ho la palla. Io lo sai che questa pervertita si accoppia con mio figlio che ha soltanto 19 anni? In effetti 19 sono poveri, eh. Ma manco pochissimi! Mi sto vedendo di nascosto con un'altra donna. Ma sei pazzo? Quanto anni hai? 48. Non lo direi in giro. Questa cosa che fai è socialmente inaccettabile. Questo è un gioco delle bocce. E' un nobilissimo sport. E' uno sport da vecchi? Eh. Si tratta di Luca. E' successo che si è messo con una... Che ha questa? Si droga, beve e malata? C'ha 48 anni. 48 anni? Pure lui, magari ne vide mia, eh. E', siamo a Aktitare. Qui abbiamo avuto cuidado con unaku của la starah? E', siamo a formEEEEgitare. Intertalkissimi. Intertalkissimi. Grazie.